Allora calmi stiamo per fare un colpo tremendo Fate irruzione ai laboratori human prendete i file e uscite Una volta attivato l'MP L'MP era quel robolac che aveva impiazzato Esatto Ok metà squadra Cosa c'è scritto? Entrerà La visione notturna Entrerà Ah ok Cioè mi sembrava una A Vabbè Indossando i visori notturni L'altra metà respingerà a rinfo Ok ho capito Lo stemma di questo tizio è una stella ribaltata Quindi Questa simboleggerebbe E' satanico Non era la croce ribaltata satanico No Vabbè In ogni caso se non cominciassimo E' il simbolo dell'anticristo Ah di nuovo questo qua che nessuno ascolterà No infatti Poi magari ci si parla Oh madonna con quali costumi però Allora Elegante no Dov'è rider ci sta bene Elegante Così subito Ah non abbiamo maschere Ah giustamente ci sarà il visore notturno Elegantissimo Elegante Vado Pronto a giocare Io vado a parlare col cinese Toccate la mia bambina Allora che si dice Dai vado a scoparmi questo Guarda Guarda che bello Guarda lo spingi giù No Non se ne accorgi Sono caduto Allora scingi Cosa si dice Arriverò a ritardo ragazzi Non ti preoccupare Noi siamo qua a fumare Ho avuto un piccolo incidente Guarda non ti preoccupare Io sono qua con Noi siamo qui con i Castruni Ma che macchina Pilota è arrivato Salve Madonna se vedi così un'auto Figuriamoci Forza forza Vada pilota Pilota vai comandi Certo certo Arrivederlo Io vado al mitra Aspetta che sparo contro l'auto di Galileo Decollo fra cinque Quattro Uno via Alza il culo Raggiungi la zona di scarico Questa siamo in water Che con il muro ti spara come un idiota Il tizio mi sa Guardate che trick sull'acqua Che vi faccio Adesso cadi Che c***o Eccoli riguardanti i laboratori Tutti nascosti dalla legge La zona di scarico Ti lancio giù Ah via Come mi lancio giù Bisogna lanciarsi Porta in volo No 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 Oh ragazzi Ho uscita dal colpo ragazzi Che devo fa Dei uscire da sta zona Ma scusami eh Tieniti a distanza dal laboratorio Mi ha detto di andare lì Mi ha detto C'è l'icona lì Mi effetti Ma scusa eh Quindi ti dici di andare lì E poi Allora ragazzi avete visto tutti Che il pallino giallo E' anche quel pus Sì No ma è vero Scusa tu Lui ti ha fatto andare lì Poi ti ha detto Tieniti a distanza Forse devi andare lì Puoi scappare E qual è il motivo Questo cinese Oh Lascia stare scingi Ah forse devo stare sopra Ah è vero In effetti tu ti sei abbassato Forse mi dovete lanciare dall'alto Sì però spiegarmelo Eh forse sì Forse dovresti stare in alto In alto Sparo le mani In quel cerchio Lai in alto Paracadutati Preparate il lancio Paracadutati Via Ciao Buona fortuna Guardi figata Sembra tipo un mission impossible Tun 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 Oh no non mi chiamano No Uh ecco ecco Vedo il simbolo dove dobbiamo atterrare E' atterrato quelli lì ovvero Se ne è andato il cibo al paracadute Quelli lì o Siamo passati alla visi Madonna siamo splinter cell Sto seguendo ogni tuo passo madonna Guarda vai a cagare Ah ecco qua Come si entra Ah Davide ci sono ci siamo noi eh Tranquillo Da destra ci pensiamo noi Eh io devo entrare Io devo entrare Vai vai ti copriamo noi Madonna mia Madonna anche lui c'è il visore notturno Eh sto bastardo Arca puttana Madonna scusatemi ma Se non mi muovevo Muoviti dai muoviti Che siamo nel bel mezzo all'azione Carideeo Buono Allora la strada di destra è coperta Galilio devi venire dove sono io Che stiamo entrando nel laboratorio Ok ecco ti dai andiamo Ma no che figata però questo visore Sono tantissimi Galilio Ma Ma tipo Ha girato un pugno E mi ha stordito Eh eri vicino a lui scommetto Eh ma ha girato l'angolo E appena ero entrato la porta c'è un angolo Ok Mi ha sbucato di lì Merda è ancora vivo questo Eh fanculo Abbiamo perso Sì Oh ma dai Forse Continuate voi No abbiamo perso Tu cazzo avvocato Dobbiamo rifarla Paracaduta ti Vai via Ho la fortuna là sotto Grazie Sì Dobbiamo rivenire anche noi Ecco mi è arrivato Buona siamo Che spavento Che spavento Quando sono atterrato ho settivato il visore notturno Credevo di essere morto tipo Allora Galileo levati Levati da lì Ah ok Sì Sì Carca puttana Via 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 Buona Ok quello è morto Ok Ah È morto proprio Eh dai Lo faccio qui eh Qua eri morto tu Galileo Vai piano Tento che ce n'hai subito Ok Sta arrivando quello che ti ha deciso Sì 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 Infatti Ok 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 L'ho ammazzata Ce ne sono due Attento eh Merda ci stavo per rimanere Faccio una bella cosa lancio gli lancio una granata aspetta No non è morto 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 Eh no ce n'è ancora c'è un altro Ok è morto Buona Diamo Aspetta che io intanto che siamo una stiamo un attimo in copertura Voglio provare a mangiare lo snack a vedere cosa succede Ah vero Me la tengo come azione Mangia snack Ah non posso perché c'ho Aspetta Ah no posso Anche se c'ho la maschera No ho gioco bugato l'AIDS Ok è morto Aspetta che ne mangi un altro Ti le dà la vita Eh sì adesso me la ripristino tutta Piano piano Ah d'accordo Oh perché non spara Attenzione che arriva gente Eccolo Madonna Questi qui mi sa che sono incaricati per buttarti si addosso E ammazzarti corpo a corpo Non puoi sparare madonna putt Premi e per posizionare la scheda magnetica Ah ok queste sono quelle che abbiamo rubato Galileo Ok Ah contemporaneamente Ok 3 2 1 Vai Tempo sblocco Ok Oh ce l'abbiamo fatta qua Oh siamo entrati eh Bene Che cazzo fai? Boh avevo voglia di tirare un calcio la sete Ah Allora chi ha detto sb Ecco Ok abbiamo preso quello che ci serviva Raggiungi l'ascensore Buona buona Questa ascensore ci poterà Che cosa sta succedendo? Ragazzi abbiamo perso il segnale con voi Non vi vediamo più Eh va bene Ma ecco Ok morto 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 Vieni 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 Tanto se mi chiamato a Skype Infatti Oh dio 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 Ok non c'è un problema Dai andiamo Dai ce la facciamo a seconda Tantative buona Ok di quali qua Merda Ah croce l'acqua No 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 Via 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 No io la so che cos'è questa parte Merda dobbiamo Oh cristo siamo in acqua noi Ragazzi mi dice di prepararmi a destrazione eh Della squadra di terra Voi dove siamo? No e poi ovviamente siamo sott'acqua Io non ci arrivo lì quando Come si fa a uscire Galileo? Non lo so Ma io non ci arrivo io sto Io sto tornando su Se no nego Anch'io madonna Eh io ci arrivo Cristo ma guarda che Che neghiamo mi sa Broci Eh io sono Eh sei morto Che cazzo è? Ma si è annegato Che ti dice di andare lì in fondo Si Ma scuse Come è impossibile? Noi non possiamo uscire Io sono tornato su perché Se no si era annegato Ah magari io Premi G per equipaggiare il Rebreather Eh Pagà Guarda te Il respiratore ci si ammessi Non è che stupidi che sia stati Vabbè Sì ma non si vede un cazzo Dio santo non si vede Guarda Griglio hai visto? Ah vedi che Griglio qua c'era un buco Però comunque senza il respiratore Non ce l'avremmo mai fatta Presto 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 Ok abbiamo semplicemente un po' più di aria Comunque Con questo respiratore Ma è vero Madonna Eh ci sono pure zone Ah no guarda Platform Eh Chris Giustamente I d'ostacoli ci devono essere Sto tunnel Madonna mia però Velocirà Griglio lo sai che forse non ce la facciamo Io ce l'ho quasi No puoi recuperare Poi Vedi sopra l'aria Ti rendi conto che io Che ce ne stiamo scappando Mutando nelle fogne Che bello eh Eh bisognava Guarda sto respirando Tanti col piscio Siete entrati da un aero da guerra Siete usciti dalle fogne Oh eccoci qua Mare aperto Oh madonna Di già Senti Ti lamenti anche Evi nelle fogne No Adesso arriva uno squalo Ci mangia Dalle immagini Oh madonna Ragazzi la squadra di terra È stata mangiata da uno squalo Ok noi siamo in superficie Andiamo alla spiaggia Carileo Oh eccomi è arrivato Oh No guarda C'è proprio il punto dove Dove bisogna andare Madonna Qui continua ad arrivare Non è che smette Lanciate un razzo Di segnalazione Ok vado io Ah Ah uguale Vado io Avete visto? Lo vedete? No Vedete? Cazzo Guarda Aspetta andiamo Andiamo più in alto Guarda verso il mare Te lo spammo verso di te Ah ma sei qui a due metri Ah eccovi Eravamo lì Siamo Lo sparadosso E vi vedo Brutti di occhi Oddio ti sto per colpire Dai ci venga a prendere Lascia gli spazi Dove cazzo atterra qua Immagino che io devo atterrare Eh atterra qui ma c'è poco spazio Quindi Stai attento Guarda io sono Sono un asso Pian pia 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 No 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 Sono un maestro No ma avete visto che la scatta è reclinata e mi ha risucchiato Te l'avevano detto che non c'era spazio Ah ma guarda c'è proprio l'anello che ti dice dove andare Eh certo Siamo mica Lì dietro Non hai occhio Deve avere l'occhio del pilota Mamma mia ho visto che bel occhio Dai Ciao Sì andate veloci eh Dai Senti Eh Devo uccidere Guarda C'è esatto modo Madonna stavo per schiantare Guarda se morivi così Senti Madonna sto per Cazzo A momenti atterravo fuori dall'aborto Cazzo Preso un palo Madonna Visione notturna Ok ho già lanciato la bomba Dai sei comunque Tutto sommato è facile Sì dai Se finiva lì il colpo Cazzo poi ci dà anche tanta roba Ma non è vero Ganilia dove stiamo andando Cazzo dove stiamo andando Qua ci abbia rischiato Che stava fottendo uno Uno solo Veramente Puoi dite di me eh Sì Spara quello che lì lì ho Ma niente Porco Dai uno solo E siamo salvi Cazzo Ok abbiamo fatto Non lo dovevo dire E va Andiamo Olle papà Ora mettiamoci I respiratori E via Dai E devo scendere le scale No Qui siamo fottuti raga Non me la fa mettere Eh ormai che ce l'hai già su L'ho detto No 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 è cazzo Mi ha sfiorato il dio Tu premigi Ma lui non ti Cosa ti dice lui Mi dice di uscire Prova ad entrare in acqua Magari ce l'hai Fai sparare Brutto idiota Io sono sotto l'acqua E mi sta perdendo L'ossigeno Non dirmi che sei Buggato Forse ci siamo Oh l'hai messo? Oh si Dovevo metterla automaticamente L'ho messo Ok Dove sei Cioè scusatemi Manualmente Ok vai Allora noi ti aspettiamo Noi siamo già qui Cristiano adesso devi solo Atterrare Stastire del cazzo Piano 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 Oh 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 ok Ok Cristiano atterrà Spegni i motori per carità Non so come si spegna Scendi dalle ricotte Non scende Bene allora sto Gario tu come sei messo Sta arrivando? Si 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 Oh Madonna Se questo qui mi Se questi qui mi colpiscono Cristo dove sono? Io non li vedo Eh va bene È qua sta Eh ci pensa il mio amico che finora ho fatto un bel lavoro eh io da qua non vedo nessuno sono stato colpito parategli in nome di dio non lo vedo c'è una visione di merda che cavolo è eh io sto cercando di mettere un favore ok uno uno su quattro madonna uno vedo uno ecco ok l'ho preso l'ho preso benissimo ce n'è ancora uno davanti ma credo stia morende io non lo vedo quindi mi sa che è giù buono raggiungi il punto di incontro piano piano buono un atterraggio pulito finalmente questo elicottero non l'abbiamo ancora fatti finora eh ah guardate c'è la mia ragazza uh la figa ha cambiato ha cambiato pantaloni ha cambiato bodyguard ci offre una sua potata ah no è una granata cosa vuol fare perchè l'ho preso a cari di dio tranquilli tranquilli ah dobbiamo distruggere qualcosa mi sa no ah ne ricordo oh eh lo sapevo la mia bambina lo sapevo la classica scena con l'esplosione alle spalle sta amarrissimo la mia bambina ciao 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 ciao